Un testimone interviene sul caso di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina si troverebbe in una clinica in Svizzera Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato. Sono passati ben 25 anni dalla scomparsa di Ilenia, la figlia maggiore di Albano Carrisi e Romina Power Ora però, è arrivata la testimonianza di un uomo misterioso che avrebbe rivelato di dove si trova la ragazza A quanto sembra, la vicenda girerebbe intorno ad un ricovero in una clinica molto lontana Andiamo a scoprire tutti i dettagli. Ilenia Carrisi, arriva la testimonianza Sock, si trova in una clinica in Svizzera La scomparsa improvvisa di Ilenia ha segnato profondamente Albano e Romina, purtroppo i due non sono riusciti a darsi la forza per andare avanti Al contrario i problemi sono diventati più grossi di loro, tanto da doversi separare I due artisti per moltissimi anni hanno intrattenuto e appassionato il pubblico, ma non solo per la loro bravura, infatti hanno anche fatto sognare tutti con la loro bellissima storia d'amore Albano e Romina sono diventati genitori di ben quattro figli, purtroppo però la storia della maggiore Ilenia è nota a tutti La ragazza scomparve quando aveva 23 anni senza lasciare nessuna traccia di sé In questi anni continuano ad esserci moltissime concetture su questa storia, ma che alla fine non hanno mai portato alla verità Ora però è arrivata una testimonianza scioccante, Ilenia sarebbe stata visita in una clinica a Svizzera Andiamo a scoprire tutti i dettagli.Ilenia Carrisi, un testimone l'avrebbe riconosciuta in una clinica La perdita di un figlio non è sicuramente un momento facile da superare, ancora di più se non hai la certezza che sia ancora vivo o meno Per Romina Power e Albano Carrisi è proprio così, infatti nessuno ancora la conferma che Ilenia non ci sia più Certo è, che dopo un lungo periodo i genitori tendono a perdere le speranze, ma quando arriva una notizia su un suo possibile ritrovamento gli animi cambiano decisamente Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore, a quanto sembra un testimone avrebbe rivelato di aver riconosciuto Ilenia in una clinica in Svizzera Sparizione Ilenia Carrisi, un testimone rivela di averla vista in Svizzera, ecco dove l'uomo ha detto di aver visto una donna molto simile a lei che sarebbe stata ricoverata in seguito alla perdita di memoria Ovviamente la segnalazione è stata esaminata dagli investigatori e attualmente stanno verificando se si tratta di una truffa o meno Adesso Ilenia avrebbe 52 anni, motivo per cui risulta davvero difficile riconoscerla dopo così tanti anni Sicuramente il suo aspetto non sarà più quello di quando aveva 23 anni e anche per i suoi stessi genitori sarà quasi impossibile capire che si tratta di lei In ogni modo, Romina Power ha sempre creduto che la figlia è ancora in vita e che probabilmente ha perso la memoria e che quindi riesce a ritrovare la via di casa Ora non ci resta che aspettare le prossime news, per scoprire ulteriori dettagli Voi cosa depensate?